Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Prendiamo, prendiamo Dionischi, l'allenatore del Sassuolo, che ha appena vinto contro l'Inter, giocando col 4-2-3-1. Ste? Stefano? Stefano? Stefano Pioli? Hai visto come si batte l'Inter col 4-2-3-1, che tra l'altro è il modulo dello scudetto, l'hai visto, sì? L'hai fatto anche tu la settembre, sì? Perché non lo sai fare più, Ste? Perché non lo fai più? Io vi chiedo scusa se non ho fatto il video post-partita di Cagliari-Minal, ma non l'ho vista la partita, perché ho avuto un imprevisto, quindi non ho potuto farla. Comunque vittoria è importante, ma il banco di prova è con la Lazio sabato, altrimenti non abbiamo fatto un cazzo. Ma finalmente è ad lì in campo, finalmente è ad lì in campo, ma poi lo toglie per far entrare Pobeca, solito schifo, solito schifo, solito schifo. Bene, Okafor, bene, Sportiello. Io non voglio essere blasfemo e non voglio essere malinterpretato, ma io posso giocare titolare con Sportiello, prendere De Belanche, tenere Sportiello, tenere anche Mirante e vendere me niente e fare la squadra il prossimo anno. Ragazzi, noi abbiamo vinto il campionato con Cristian Abbiati, all'inizio, oggi abbiamo giocato bene anche con Cristian Abbiati, quindi possiamo vendere Mike se si fanno un'offerta irrinunciabile e fare un altro mercato come abbiamo fatto quest'anno. Perché Sportiello, se riprendiamo De Belanche, se teniamo Mirante e stiamo tranquilli, non finiamo in B, attenzione, no al ritorno del traditore Gigio Donnarumma, non se ne parla. Se il Paris Saint Germain vuole me niente, mi porti la fresca, faccio la squadra nuova, continuo a fare questo mercato che ho fatto quest'anno con una cessione come quella di Tonali. Ma questo è un discorso ipotetico, però si potrebbe fare, non è che crolla il mondo, perché Sportiello è un portiere validissimo, che può giocare tranquillamente. Oggi l'ha dimostrato e anche in Champions League. Se poi vuoi puntare su un fenomeno, riporta a casa Stefano De Belanche. Ma torniamo sul discorso focale di questo video. Ma l'avete visto il sassuolo di Dionisi? Prendiamo Dionisi, perché non è un allenatore che fa emergenze e infortuni, cambia sceni e cambia a cazzo e altro schifo. Oggi l'avete visto il cambio di fare entrare One 3 Soldi? E' uno che legge le partite, quello che non fa Stefano Pioli. Perché ha messo One 3 Soldi? Perché aveva visto la difesa in difficoltà e Lautaro Martinez aveva trovato spazio negli inserimenti da dietro. Ecco un allenatore che legge le partite. Leggere le partite nel calcio di oggi è fondamentale. Guardate come ha giocato oggi il sassuolo, 4-2-3-1, che è il nostro modulo. Il sassuolo non è una grandissima squadra, ma un grande allenatore. Cioè non è una squadra che abbia dei nomi e dei campioni, a parte Berardi, che andrà alla Juve. Schifo, perché a me servirebbe come il pane. Però un grande allenatore, uno che di calcio ne capisce, che le partite ne legge. Quello che non fa Stefano, quello che non fa Stefano. Le partite vanno lette, Stefano. Le partite vanno lette. Io spero che stasera l'hai guardata la partita, Stefano. L'hai guardata la partita, Stefano. L'hai guardata come si batte l'Inter col 4-2-3-1, giocando con la difesa a 4 e non prendendo il solito schifoso gol col centrocambista da dietro. Perché solo a te ti fanno il gol col centrocambista da dietro? Te lo sei mai chiesto? Te lo sei mai chiesto? Eh? Te lo sei mai chiesto? Perché solo a te l'Inter ti buca col centrocambista da dietro. Pure Dionisi ci è arrivato che l'Inter non gli deve dare l'inserimento del centrocambista. Non glielo devi dare. Il loro punto forte è quello, l'inserimento del centrocambista del 3-5-2 che viene da dietro. Lo sanno tutti, Stefano. Solo tu non lo sai. Solo tu non l'hai capito. Che te lo dobbiamo scrivere sulla lavagna? Te lo dobbiamo scrivere sulla lavagna? Non devi dare all'Inter l'inserimento del centrocambista da dietro. Perché c'ha Michite, Giancianoglu, Frottesi, Barella. Tutto il centrocambio che si inserisce da dietro, ste. E sanno fare gol. Più degli attaccanti. Perché i centrocambisti dell'Inter sono più pericolosi degli attaccanti. A parte Lautaro Martinez. Quindi svegliati, ste. Svegliati. In questa parte di video voglio parlare anche di Balotelli. Ragazzi, Balotelli mi serve come il pane. Se Balotelli ha detto io sono pronto, io sono qua. Prendiamo Balotelli. Prendiamo Balotelli. Prendiamo Balotelli. Perché Balotelli. Balotelli ha lo stesso, la stessa bestialità, la stessa cattiveria, la stessa strafottenza di Zlatan Ibrahimovic, a parte il cervello scemo. Ma quello è un altro discorso. Ma in campo, se non si fa cacciare, è determinante quasi come zio. Ha gli stessi controllo, lo stesso tiro da fuori, la stessa giocabilità perché si viene a prendere palla da dietro e fa inserire i centrocambisti. Balotelli ci serve come il pane. Balotelli ci serve come il pane. Poi è un balo che torna al Milan cattivo con la bava alla bocca per riconquistarsi la nazionale. Io lo prendo come il pane. Balotelli, Camarda, Orsolini. Io voglio un po' di Italia in questo Milan. Voglio un po' di Italia. Aperto e chiuso a parentesi. Facciamo giocare Bartesaghi. Facciamo giocare Camarda. Li portiamo a casa Stefano De Belange. I fenomeni ce li abbiamo in casa. Coltiviamoli. Abbiamo un allenatore con le palle. che li faccia giocare perché Dionisi le palle le tiene. Com'era Sinisa Mijalovic. Ecco perché io dico. Hashtag prendiamo Dionisi. Prendiamo De Zerbi. Prendiamo un allenatore con le palle che sappia giocare a pallone. Prendiamo un allenatore che non abbia emergenze e infortuni. Cambia cazzo. Preparazione o scena. che sono gli unici ostacoli per farci vincere la seconda stella. I nostri ostacoli. I nostri problemi per vincere. Perché ci possono impedire di vincere la seconda stella. Sono Stefano Piole. Sui campi osceli. Preparazione a cazzo. Emergenze e infortuni. E altro schifo. Questo è. Ma io voglio un allenatore come Dionisi. Dionisi non ha una rosa da top club. Ma vedete come gioca a pallone. Vedete come legge le partite. Quello devi fare. Oggi l'Inter l'ha schiattata. Se non c'era Sommer si prendevano quattro gol. Cinque pere. Questo è. L'Inter non è imbattibile. È Stefano Pioli che è scarso contro l'Inter. È diverso. A me quei cinque gol fanno ancora girare le palle. Perché l'Inter se non gli dai l'inserimento del centrocampista nel 3-5-2 sono battibilissimi se giochi a pallone. Sono battibilissimi. Li puoi battere. O almeno non perdere in quel modo sceno. Perché sono una buona squadra l'Inter. Però non siamo da prendere cinque gol. È lui che è scemo contro l'Inter. È questo che mi fa incazzare come un animale. Quindi ribadisco. Ribadisco. Io voglio un allenatore come Dionisi. Come De Zerbi. Uno che giochi a pallone. Ma non abbia i problemi di Stefano Pioli. Perché allora Stefano bisogna dire. Ste, basta preparazione o scena. Cambio sceni. Emergenze infortuni. E cambia a cazzo. Perché se lui capisce queste cose. Se qualcuno gliele dice. Diventa un allenatore vincente. Perché il gioco ce l'ha. Abbiamo dimostrato anche oggi a Cagliari. Ma deve dimostrarlo con la Lazio. Lui ha questi problemi che deve assolutamente migliorare. Almeno qualcuno. Che non ti vendiamo ogni volta un lazzaretto. Quello non va bene se vuoi vincere i campionati. Perché devi avere la rosa con un minimo di infortuni. Ma non ogni volta un lazzaretto perenne. È sempre per le stesse cose. Non puoi perdere i derby sempre per lo stesso gol. Le stesse cose Stefano Pioli non le capisce. O qualcuno gliele dice. Non può fare dei cambi osceni e perdere le partite. Perché non c'è Slata di Ibrahimovic a metterci la pezza. Ecco perché voglio Balotelli. Perché là stiamo. Con Balotelli là stiamo. Come giocatore. Perché Balotelli ha le stesse tecniche di Ibrahimovic. Così come c'era anche Marco Arnauto. A cui da avversario faccio gli auguri di una pronta guarigione. Perché è un grande attaccante. E io l'avrei preso. Aperto e chiusa parentesi. Iovic non mi serve. Voglio Balotelli. Prendiamo Balotelli. Più ad ora rendimento zero. Quindi se Iovic dovesse continuare a non servire a una mazza. Prendiamo Balotelli. Prendiamo Balotelli. Gli serve come il pane. Balotelli ci serve come il pane. Balotelli ci serve come il pane. Perché ha lo stesso tipo di gioco di Ibrahimovic. Inserimenti. Fa fare gli inserimenti ai trequartisti. Tiro da fuori. Le punizioni. I rigori. Che Balotelli non sbaglia praticamente mai. O molto raramente. Quindi Balotelli ci serve come il pane. Balotelli ci serve come il pane. Non rompete il cazzo. Poi il cervello ci lavoriamo. E prendiamo Zlatan Ibrahimovic a fargli da coach. Perché se Balotelli ha Ibrahimovic che gli fa da coach. E lo controlla. Noi potremmo avere una grande mina vagante. Da riportare in nazionale. Che servirebbe come il pane. Aperta e chiusa parentesi. Ma ribadisco. L'hashtag per il mercato di gennaio. Camarda titolare. Perché Viajovic. Camarda, Balotelli. E Giroud. E Okafor. Viajovic. Orsolini. Un po' di Italia. Un po' di Italia. Bartesaghi più spesso in gambo. Quel giovane della primavera. Sfruttiamo la candera. Come fa il Barcellona. Ce l'abbiamo i fenomeni. Riportiamo Sebastiano De Belange al Milan. E abbiamo il portiere più forte degli ultimi. Dei prossimi vent'anni. Se ci lavoriamo. E se Mignan prima o poi andrà via. Ma io non dico che voglio che Mignan venga ceduto. Però se viene ceduto ho Sportiello. O se non ho Sebastiano De Belange. Cioè ce l'ho le alternative. Perché abbiamo dato De Belange al Palermo? Perché non ci abbiamo creduto? Ce ne potremmo pendire. Perché se lo prende la Juve. Poi ce lo prendiamo in culo. Eh. Io questo voglio dire in conclusione di video. Prendiamo De Belange prima che lo prendano la Juve. Perché se la Juve si accorge che è il fenomeno. C'è lo frega. Il sistema la porta per vent'anni. Poi è altro che Donnarumma. De Belange deve essere nostro. Riprendiamo Sebastiano De Belange. Perché il fenomeno. I fenomeni. Ce li abbiamo in casa. Ciao a tutti.